Il nuovo piano industriale della Banca Popolare di Bari rischia di ripercuotersi principalmente sulla nostra regione, a dirlo è la neocostituita Confassociazioni Abruzzo, che chiede di avviare un dialogo per far luce sul riassetto dell'Istituto Pugliese dopo il crack e gli arresti dei mesi scorsi. Allo scadere del 2018 la Banca Popolare di Bari contava 291 filiali su tutto il territorio nazionale, di cui 97 nel solo Abruzzo, aggiudicandosi il primo posto regionale tra gli istituti bancari per presenza sul territorio. Mentre con il nuovo piano industriale, che partirà da dicembre, chiuderanno 31 filiali in Abruzzo, 20 delle quali sono ex Banca Tercas e 3 ex Caripe. Nessun rappresentante abruzzese è stato letto nel Consiglio di Amministrazione della Popolare di Bari e le chiusure per il riassetto riguarderanno più di 60 lavoratori, che dovranno essere ricollocati o rischieranno di perdere il posto. Secondo uno studio condotto da Servet Industry Forecast, sottolinea Confassociazioni, allo stato attuale l'Abruzzo potrebbe arrivare a perdere quasi 9 miliardi e mezzo di fatturato durante il periodo 2020-2021.